Si è dichiarato ignaro che fosse vietato farlo e per questo dopo sette giorni in carcere è stato rimesso ai domiciliari. Giovanni Cassano, Ucurt, fratellastro del ben più noto calciatore Antonio, era ai domiciliari con il braccialetto elettronico per un furto aggravato in un appartamento di Sanicandro nel Barese. Nel frattempo era diventato il re dei social, postando storie, partecipando a chat di gruppo e pubblicando video. Era diventato anche molto noto tra i giovani, ironizzando proprio su quel braccialetto elettronico manco fosse alta gioielleria. Il 27 gennaio scorso però il Gipni aveva disposto l'aggravamento della misura per violazione degli obblighi imposti e in particolare proprio perché avrebbe iniziato a curare i suoi profili social. Alcuni video postati con il nickname Giovanni Cassano, Ucurt, avevano sfiorato anche le 30.000 visualizzazioni. A seguire il suo profilo però c'erano anche i carabinieri, così su richiesta della procura il giudice ha disposto che tornasse in carcere. Nelle ultime 24 ore però, a distanza di una settimana, lo stesso Gip ha nuovamente sostituito la misura cautelare, concedendo a Cassano, assistito dall'avvocato Nicola Quaranta, gli arresti domiciliari. Ma precisando, questa volta a chiare lettere, il divieto di avere contatti anche telematici o a mezzo social network con persone diverse da chi lo assiste o difende o con cui abita. Grazie a tutti.